Gianandrea De Cesare ha rassicurato la Liga Basket sulla risoluzione delle problematiche societarie emerse nell'ultimo mese, ma per il caso Young tutto passa per le indagini della Procura Federale e per l'audizione che avverrà presumibilmente nella prossima settimana. Intanto la Sidiga Savellino vive le ore di vigilia del primo match del 2019. Domani i lupi saranno ospiti della Epic Casa Brindisi. La gara è stata presentata da coach Nenad Vucinic. Come per i precedenti appuntamenti, quella di Brindisi sarà una gara difficile. Affronteremo una buona squadra che esprime una palla a canestro di qualità e molto intensa. Vengono da una bella vittoria ottenuta a Trieste e lottano per un posto tra le prime otto del torneo. Ci aspetta una gara fisica, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi e su come dovremo giocare cercando di migliorare nell'esecuzione, mantenendo l'intensità avuta nelle ultime uscite. Dovremo inserire tutti i giocatori, ad esempio Campani e Campogrande. Sarà una buona occasione per loro, per continuare nel processo di crescita individuale. Sugli infortuni il tecnico di Belgrado guarda positivo, puntando su tutti gli elementi a disposizione. È difficile allenarsi così. Ieri eravamo in sette, siamo in emergenza, ma dobbiamo convivere con questa situazione sperando che non duri a lungo. Entro la fine del mese speriamo di recuperare Indiaie. Su Costello non ho notizie certe per i tempi di recupero, ma posso contare su Spizzichini, che non molla mai.